Come prima cosa volevo fare un saluto a un grande giocatore per la nostra Inter, un grande cuore nerazzurro degli anni 70 a Mauro Bellugi che oggi purtroppo ci ha lasciati dopo una vera sfortuna dopo il Covid che ha dovuto anche putarsi le gambe sfortunatamente nei corsi mesi. Mi sembrava che dovesse migliorare ma addirittura si presumeva che Moratti dovesse omaggiare le protesi ma purtroppo oggi ci ha lasciati, ha appena compiuto 51 anni, dispiace perché un grande cuore nerazzurro che se ne va in questi ultimi mesi, se ne stanno andando un po' tutti, purtroppo non è un buon momento per il calcio più che altro, in un periodo poi così anche particolare. Lo ricordiamo più che altro anche perché è stato molto in televisione, più che in campo, sì, con l'Inter ha fatto un po' di presenze ma comunque ha sempre dovuto, non sempre titolare, però uno scudettino l'ha vinto, anche con la nazionale ha dato il suo piccolo contributo, lo ha dato. Comunque lo ricordiamo anche comunque in televisione per commentare l'Inter, sempre un grande tifoso interista, oggi ci lascia, quindi un saluto, che riposi in pace. Speriamo domani, speriamo domani, domani sarà la grande partita, il grande derby, Milan-Inter che è domani di dedicargli questa vittoria. A proposito di Inter, dei B4 appunto, del derby domani alle ore 15, su Tassolo non trasmetteranno, che palle, non lo sopporto Tassolo, come ben sapete. Che dire ragazzi, tanto, anzitutto, che domande di merda fanno a Conte? Proprio l'ultima domanda di merda, è anch'esso se Lukaku lo voleva mandare a Sanremo piuttosto che... Ma che domande sono? Ma ti pare che... A parte che poi già Ibra-Sanremo ancora non me lo spiego, come cazzo fa ad andare, non me lo spiego, deve fare avanti e indietro tra Liguria e Lombardia, che già non si può uscire dalla regione, cosa fa il cacchio che vuole? Per lavoro, sì, per lavoro. Se questo è lavoro, vabbè, tanto comunque i soldi girano lo stesso, figuriamoci, soldi in più in tasca per lui. Comunque, chiusa questa piccola parentesi, domani è una partita... Ah, ricordatevi, ieri sera ho fatto il Gameplay Prediction, quindi se ancora non l'avete visto, potete vederlo quando volete, in differita, anche subito dopo questo video, che state guardando. Allora, che dire... Domani sarà un derby molto importante, derby da Scudetto, forse. Beh, diciamo che potrebbe in qualche modo indirizzare verso la buona strada, almeno in caso di nostra vittoria. In caso di vittoria del Milan ci sarebbe già una lotta ancora da Scudetto, sì, si può anche dire, anche in caso di pareggio di per sé. Però è anche vero che mancano 15 partite dopo questa, 15 o 16 dopo questa, quindi è ancora lungo. Cioè, qualunque risultato che esca fuori, secondo me, è ancora da vedere come andrà il campionato. Tutto può succedere ancora. Certo, mi auguro che l'Inter affronti questa partita nella giusta maniera, così come l'ha affrontata domenica contro la Lazio, così come l'ha affrontata anche contro la Juve, che bene o male non abbiamo segnato. Però comunque, diciamo che la mentalità, anche se con le squadre che si chiudono molto, fa molta difficoltà a segnare. L'importante comunque è trovare il modo di non nervosirsi fin da subito, perché comunque queste partite qua sono, da un certo punto di vista, anche nervose, no? Insomma, se la fronti in un modo diverso, poi rischi poi di ciccarle in pieno. Già in Coppa Italia, Lukaku Ibrahimovic e tutto il casino che stava succedendo, lì si è rischiato che succedesse un patatrack e poi alla fine si è conclusa che il Milan è rimasto in dieci e l'Inter ha vinto al novantasettesimo minuto con un gol su punizione di ieri. Quindi i derby sono sempre un po' partiti a sé, già lo sappiamo, però stavolta è un derby più o meno come quello di dieci anni fa. Dieci anni fa eravamo noi in seguire, stavolta sono loro in seguire, subito dopo il sorpasso di domenica. Quindi sarà un derby molto importante. Forse il Milan arriva un po' sfavorito per il semplice fatto che giovedì ha giocato in trasferta con lo Stella Rossa, ma sappiamo che al di là di quello nulla è sicuro, nel senso che i più favoriti possono magari prendere la partita in modo diverso. Comunque mi auguro che domani i ragazzi si impegnano al massimo perché una vittoria darebbe una bella botta di vita per questo nostro campionato. Non dico che poi verrà chiuso, andremo a più quattro, casomai. Però comunque anche vincerlo per la classifica finale, diciamo, dovessimo arrivare a pari punti, dovessimo inciampare in qualche partita e il Milan vincere sempre, dovessimo arrivare a pari punti, nei scontri diretti, saremmo in vantaggio noi. Dovesse finire 2-1 per noi, facciamoci anche i calcoli matematici, con il nostro miglior attacco, se il Milan non farà una valanga di gol le prossime partite, dovremmo comunque essere noi sempre in vantaggio anche a pari punti. Poi ovvio, vincere con due gol di scontri sarebbe favoloso. Ma innanzitutto pensiamo a vincerla, poi tutto il resto, matematica e non matematica, si vede. Ovviamente qua non bisogna fare calcoli perché ogni derby è diverso e già bello sappiamo come storicamente è stato. Ragazzi, allora, forza Inter, dai ragazzi che domani voglio 11 leoni, voglio una grande vittoria, voglio godere, domani voglio godere ancora, voglio godere ancora. Domani sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo conquista una bella vittoria, sarebbe una bella inizione di fiducia, avremo poi un calendario abbastanza facile, favorevole, anche se il Genoa comunque in un buona situazione, il Parma si deve salvare, insomma. Le prossime due non sono poi così scontate. Diciamo che passando questo macigno, questo calendario un po' difficile, Fiorentina, Juve in Coppa Italia, ragazzi, insomma, un calendario abbastanza insidie, compreso il derby di domani, sarà un campionato comunque avvincente secondo me, a meno fino ad aprile e maggio sicuramente. Poi, chi vi verrà a vedere? Ragazzi, forse a Inter ancora, scrivetevi al canale, mi raccomando, noi ci vediamo domani con il commento post partita, non so se riuscirò a pubblicarlo subito, penso di sì, spero, non lo so, e a domani, buon sabato sera, a presto. Uncora un saluto al caro Mauro, ciao.